Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriremo un pacco Esatto, è arrivato un pacco dalla... Dalla? Dalla panini Dalla panini, esatto Quindi ci troveremo un panino qua dentro Un panino ci troviamo E quindi adesso lo andremo ad aprire Non so C'è già un po' staccato Non credo che ci sarà un panino Vediamo, vediamo, vediamo che cosa sarà Io volevo un panino Attenzione, attenzione Però è il panino Tieni, vuole farbici? Vieni, stacca un po' di scoccio, vai Ecco qua, adesso Scopriamo che cos'è Ed è Ed è È È l'album delle figurine di The Wish Non so se avete visto Wish È bellissimo È bellissimo Il mio personaggio preferito È Questa qui Questa qui La stellina La stellina Star Star Che Te l'ho detto io il nome Perché tu non lo sai Allora Qui abbiamo l'album Vediamolo un po' Valentino C'è dietro C'è Valentino C'è Valentino E l'album che è carinissimo Vediamolo Ah qui Ha Degli adesivi Anche delle figurine Poi ci sono tutti I scenari del film Le varie cose Poi Al centro Il mio diario dei desideri Qui si possono scrivere le cose Melissa ha aperto già questa scatola Che stava con l'album Dove dentro ci sono Le figurine I pacchetti di figurine Che adesso con calma Apriremo Allora Quindi questo Poi abbiamo C'è Valentino Valentino Ma quanto è carino Quindi ecco Vabbè Siamo arrivati alla fine Queste sono le figurine Extra sticker Ma che carini La mia figurina preferita Guardate che carina Queste di star Va bene L'album È veramente carinissimo Adesso passiamo A pacchetti di figurine Melissa uno Non ha saputo resistere L'ha già aperto E adesso ci farà vedere Le figurine Vediamole 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 Allora Aspettate Dunque Allora Abbiamo questa di Ascia Con Gli uccellini E star Bellissima Poi questa È Una scena Del film Esatto Un'altra scena Del film Insomma Tutte scena Del film Ci saranno Quelle Quelle figurine Che sono Speciali Quelle che Probabilmente Andranno al centro Sì Questa è un po' speciale Perché guarda Questa è quella Illumina Sì perché Quelle speciali Sono quelle che Non fanno parte Del film Ok Ne vogliamo aprire Qualcun altro Di pacchetto Vai Poi Poi le attaccheremo Ok Si trovano già Comunque L'album E le figurine Vediamole un po' Allora Quella illuminata Adesso è questa Wow Buona Questa dolce Però Questa è proprio Una scena Del film Questa L'hanno messo Qui a casa Ok Valentino Il figaccino Valentino Guardi che carino Che carino Valentino E poi Intanto cadono Giochi Tu Diti qui Panda Panda Sì ancora là Che sta aspettando Di essere unboxato Di essere spelacchia Esatto Belli E poi L'ultima Valentino Ascia Oddio Indicato a lei Per dire Valentino Indicato a lui Per dire Ascia E qui Valentino Che carino Vai Spacchettiamo Un altro Pacchetto Valentino Mi sparraccio Spacchettiamone Un altro Vai Sì Ogni stella Prima No Questa è un'altra Ah ok Tu devi cercare Su Youtube Le canzoni Di Wish E guarda Quante Te ne esco Eh no Lo so Lo so Che ce ne sono Parecchie E allora Perché non le ascolti Eh poi le ascolterò Questa è quella speciale Oh vediamola Super speciale Super speciale Bella Bellissima Veramente Guarda le stelle Come si illuminano Ed ecco qui Un'altra Un'altra E un'altra E un'altra E un'altra E queste sono tutte quelle Che a metà E un'altra Oh che bella Questa strappata Questa è la delicatezza Di Melissa No Questa No io Ho staccato L'altro posto Però Non ho fatto niente Non l'ho strappato Non l'ho strappato io Non l'ho strappato Oh povera Povera vittima Allora Facciamo proprio Facciamo l'ultimo Dai L'ultimo Ultimissimo E poi le attacchiamo Anche perché I pacchetti sono Eh Sì Sono Tanti Tutti questi E quindi Non possiamo fare un video Su tutte queste figurine Però Mo ne attacchiamo un po' E poi in un video Vi faremo vedere Tutte le figurine Attaccate Esatto La figadina speciale Che è La super Carinissima Dolcissima Star Guardate Quante carine Abbiamo anche Questa Di star Ah Vediamola un po' Carina Anche questa Questa è tonda Si può Questa si attacca così Eh sì Sarà speciale Poi abbiamo un magnifico Io Ti vorrei far notare Che queste figurine Sono tutte un po' Strappate Quindi probabilmente Quando le apri Ma non le ho strappate io Eh no Certo Sono state prodotte così Magari 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 Sì E poi ci sono Magnifico ed Assa Perché si chiama Magnifico Non è Magnifico No Anzi E poi Non puoi farli esaurire Anzi Li prendi pure E li distruggi Maledetto No Maledetto Non si dice Io che sì E invece sì Vabbè Perché probabilmente È proprio cattivo Cattivo Ok Adesso Abbiamo scartato Queste figurine qua E ora E ora le andiamo Andiamo ad attaccare Giusto Menedetto Valentino Ta 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 Dai Allora Che numero è Quella È il numero 148 148 Andiamo a cercare La 148 Mi Sono io Quando mi Impicco Per cercare Le pagine Dei libri Di scuola Mi raccomando Bella Bella Messa bene Nei bordi Non storta Va bene Facciamo finta Che l'ha messa Va bene Diciamo che Potrebbe Quasi andare Dai Facciamo finta Che l'abbiamo Messa Quelle sono Quelle speciali Immagino E stanno Prima No 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 Vai Prima Prima Non è là Andiamo a 22 22 Quelle Mi raccomando Che sono Quelle doppie Se la metti Storta Poi storta Pure quell'altra Ok Poi tanto Faccio quello Che faccio Sempre Le ristacco E le riattacco Ma così Si rovina No Fino a che Non è tanto Tempo Che sta Attaccata Non si rovina Allora Che numero È Dimmelo Questo È il numero 125 Dai Io te la cerco E tu L'attacchi Facciamo Così Se il nostro Video Dura 2 2000 Anni 125 Intanto Lei La scarta No La stacca La stacca E io L'ho trovata Eccola Vai 125 Ok Ok Tutto Ok Tutto Ok Ok Vai Allora Avanti La prossima Andiamo Andiamo A pagina 81 Pagina 81 No Pagina La figurina Dobbiamo cercare 81 Eccola qua 81 Star C'è la sagoma Di star Carina È da colorare Praticamente No Sì Non è da colorare Ah no Star No Erogene Scusa Valentino Valentino Fa parte Della famiglia Chi è Suo fratello L'apertura Della figurina È Diciamo La La parte Più complicata Perché Non so Che parte Ho girato Credo così Sì Vai Quanto mi ricordo Dal film Poi Che numero È Il film L'ho visto io Mamma Quindi se sbaglio Sono a fare i miei Ecco Numero Per tre Tre Eccolo Ah X tre Io ho detto Per tre Per tre Va bene X tre Per tre È la stessa cosa E Quindi è una di quelle speciali Che va al centro Che sono quelle che brillano Aspettate Che il ministro Sta buttando la figurina Per tenersi indietro Oh Guarda Guarda Quanto è storta Non è vero È stortissimo No Scusate eh Non è storta No Non è storta No No Cosa Non va È il riquadro Questo è il riquadro Che la contiene Non è il Non è la figurina Che andava Attacca Allora Il riquadro che la contiene Il riquadro che la contiene X Diciamo che X X 17 X 17 Ah È star Star Carina Sì Star è triste Anche questo è storta Non è vero Questo continua qua sotto E quindi questo Devi mettere da quella parte Eh sì Anche perché sotto c'è anche la sagoma Adesso è fuori dal bordo Però va bene Vai Continuiamo Che numero è? 158 Vai io te la cerco E tu la stacchi A me è la parte più complicata Anche perché così nel frattempo Che tu la stacchi Oh guarda Siamo all'ultima pagina Accidenti Quindi è una delle ultime scene del film Sì Ma così vi faccio spoiler No Non dobbiamo guardare No non le facciamo vedere Dai Guardate 131 Ecco Ecco Ma è bellissima No ma poi è proprio bella Sì E la cosa più bella è Valentino Valentino Vai poi Quindi attacchiamo Dimmi il numero Così te la cerco Sennò qua ci mettiamo 14 14 Ci mettiamo 3 Ecco qua Tieni Questa è la Aspetta Valentino indassa un buffo pigiama E si diverte ad arrampicarsi Sempre più in alto Per cominciare No Per comunicare Usa dei sonori Beh Dei sonori Beh E sembra sempre avere molto da dire Da dire E Valentino parla Io parlo Io parlo Tieni questa è la 44 44 Questa è la 117 Prego Ah io credo che qua alla fine non ci sia arrivato nessuno 117 Eccolo là vai Eccolo Chissà se è rimasto qualcuno A questo punto Non lo so Non lo so Questa è la 61 61 Eccola qua Vai Per chi c'è una torta Per chi c'è una torta Una torta Che brilla Ed è buonissima Poi qui abbiamo la 84 Ok Intanto Voi paratelo Me l'avete insegnato Vabbè non è che c'è tanto da insegnare Uno dice un numero Tu c'hai il pezzettino Di mandarino Lo metti sul numeretto E finita la stessa Pezzettino di mandarino Ti abbiamo detto Sì 58 Sì Ok 58 Dai Ok Poi abbiamo L'ho messo stota E' come al solito Poi abbiamo la numero Aspetta Prego Poi abbiamo la Abbiamo la numero 107 Ma perché tutti hanno Questi nomi strani Invece Valentina Ha un nome normale Esatto Anche italiano Oltre tutto Cioè Questo non sarebbe Abilettato in Italia No Diventate i nomi italiani 107 Arriva Sì Ecco Vai Poi abbiamo La numero 129 Meno male Che ne abbiamo Prese poche 129 Già Già l'hai trovata Mamma mia Che brava Mai Stai diventando Bravissima L'avevo detto Che dovevo Trovare Io Rimani là Perché poi abbiamo La 127 27 Comunque Ok Ah questa Questa è la scena Di una canzone Che fa Di Wish Che si chiama Ciò che so adesso Che Ci hanno fatto Soltanto un pezzetto Però La canzone Completa Ancora Credo che non L'abbiamo messa Però Quel pezzo È bellissimo Andatelo a guardare Si chiama Ciò che so adesso Ve la trovate Di sicuro Va bene Grazie per il consiglio Sessanta Lo sapete Sì Sessanta Stiamo giocando Veramente A Tunggola Eh sì L'ho detto No Non metterti Pure tu Con Gangle A pregare Poi abbiamo Abbiamo parlato Un sacco di volte Della posa Di Gangle Che sta Sempre così Dio ti prego Gangle Di The Mez Digital Circus Dio ti prego Aiuta Mi sono circondata Da pazzi 99 Vai Che lei forse È l'unica Sana di mente Esatto 99 Cerca la pagina Vai Che ce ne mancano due Abbiamo fatto Piccoli panda Resistete Resistete 99 99 99 99 99 99 Non metterà Non metterà No Non metterà Intanto a notare Che Melissa Ha le calze Delle Monster 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 Lo sapete Piccoli panda Che la sorellona Di Melissa Memi Memi Ha doppiato Le canzoni Di Twyla E sul canale Monster I Italiano Sono uscite Le ultime due canzoni Che ha fatto Memi Andatele a vedere Sono Che paura Infatti Tipo Sì E poi L'altra Come si chiamava L'altra Della festa Non mi ricordo L'altra Della festa Sono tutte quelle Che cantano in gruppo Quindi andate a vedere Gli ultimi video caricati Su I video musicali Sul canale Monster I Italiano E trovate Trovate la nostra Twyla Eccola qua Perché è nostra L'abbiamo comprata L'abbiamo comprata Da Ikea È l'ultima L'abbiamo comprata Da Ikea L'abbiamo anche dovuta montare Quindi Allora Numero 5 Perché Ikea Mai una cosa No no Solo pandi Solo pandi Non abbiamo dovuta montare Invece tutte le altre cose Montale tu Montale Allora La 51 Ed abbiamo finito Vai Cerchiamo la 51 Valentino Sempre Valentino 51 51 Eccola No Quella è la 3 E è Valentino 51 Eccolo Sempre Valentino E è la tipo 14 E Forse Forse ce la facciamo 51 51 L'avevi superata Ecco Ma no È prima È prima No 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 ma lì No guarda È questa No guarda è questa Dai su Ma c'è Ma c'è Ma c'è Che capisco che tanto ormai siamo rimaste io e te a vedere questo video Però È carino Valentino Ecco qua La 51 Ehi perché non me l'hai tolto Ah è vero mi sono scordata Ecco qua È una Mamma Ma cazzina Ok Attacchiamo la 51 Vediamo un po' Ed eccola qui Ok Allora A noi ci sono rimasti Io sono più che altro convinta che era questa la 51 È certo Va bene A noi ci sono rimasti un sacco di pacchetti di figurine Da scartare E speriamo di trovare la faccia di Valentino È certo La troveremo la faccia di Valentino Allora con questo video abbiamo finito E Ok Come sei vicino Allora abbiamo finito Vi chiediamo e vi ricordiamo che se volete vedere tutti i nostri video e non perdervene neanche uno Poveri voi Dovete iscrivervi e attivare La campanellina Esatto E poi Noi stiamo mandando delle live pre-registrate sul nostro canale Su tanti video che abbiamo fatto C'è quella bella Nina nanna Se volete ascoltarla quando dovete studiare Quando dovete dormire Che ci mette ci rilassa E poi c'è tutto un Una maratona di video De me contro te Dove vi facciamo vedere tutte le cose che abbiamo fatto A te ma a me contro te Però una vera e propria live non l'abbiamo ancora fatta Esatto A 50 mili iscritti lo faremo E attenzione Per chi non si ricorda Ho detto che a 50 mili iscritti Non solo faremo la nostra prima live Ma conoscerete anche il vero nome di Lainy La nostra amica cagnolina Esatto Esatto Quindi Vi salutiamo Ci vediamo E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao